Con questa guida vi insegno come installare Skype sul proprio computer Cliccare su Start, cliccare con un solo clic su Internet Explorer Aspettare che si carichi la pagina All'interno della barra degli indirizzi scrivere www.skype.it Dopodiché battere invio oppure cliccare su Vai Attendiamo che si carica la pagina e clicchiamo qui su Scarica Skype Attendiamo che si carica la pagina, qui possiamo vedere l'indicatore Se ci esce questa schermata clicchiamo su Click, clicchiamo qui in alto su Scarica il file Aspettiamo che uscirà una nuova finestra con su scritto Download di avviso Possiamo salvare il programma Skype Setup.exe Cliccando su Salva Dopodiché scegliamo magari di metterlo nei documenti e clicchiamo su Salva una sola volta Una volta scaricato il nostro programma possiamo cliccare su Esegui In questo modo c'è un avviso di protezione Clicchiamo ancora su Esegui e seguiamo le istruzioni del programma